Nell'ambito della Kermess internazionale, SIGEP, che si sta tenendo a Rimini e che si conclude martedì 24 gennaio, il Ministero dell'Agricoltura, nello spazio espositivo ISMEA, ha organizzato una serie di masterclass intitolate Dulcis in Gusto. Una di esse è stata tenuta da Paolo Caridi sulla nuova barretta chiamata No è Mi. Paolo Caridi, maestro pasticcere, amico, attento al territorio, lui è un, io lo chiamo lo scrigno del territorio. Paolo, oggi ci puoi fare un tuffo in Calabria, ma con una barretta particolare, perché No è Mi è un'unione particolare. Oggi voglio presentare No è Mi, che è l'80% di frutta secca, in questo caso di nocciola tonda di Calabria, e il 20% di miele. Miele di Amaroni, perché Amaroni è la città del miele calabrese. La frutta secca è quello che regala il vero sapore al torrone, quindi sono un po', come dire, a favore della frutta secca, abbassando tantissimo gli zuccheri all'interno e quindi dare tanto dono a quello che può essere la frutta a coscio.